I carabinieri di Cittadelle di Carmignano di Brenta hanno arrestato in flagranza di reato per rapine e resistenza pubblico ufficiale un 37enne marocchino e una 37enne vicentina, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine. I fatti sono venuti in una trattoria dove la coppia, dopo aver consumato il pranzo, raggiunta la cassa, si era impossessata di alcune chiavi della locanda, cercando di allontanarsi furtivamente. La titolare, nel tentativo di fermare la fuga, è stata aggredita dalla coppia che è riuscita comunque a scappare. I due sono stati poi rintracciati dai carabinieri vicino alla stazione ferroviaria e una volta scoperti hanno aggredito i militari, che sono comunque riusciti a bloccarli e arrestarli. Per la coppia si sono aperte le porte del carcere.